Doppio blitz di carabinieri ed ispettori del lavoro in due aziende agricole del territorio di Battipaglia. Dai controlli è emerso che ben 15 braccianti lavoravano in nero. Interrogati dai militari, molti di loro hanno sostenuto che quello fosse il loro primo giorno di lavoro. Parole che non hanno convinto gli inquirenti, che hanno ricostruito nel dettaglio il quadro della situazione e sanzionato i due datori di lavoro per un totale di 60.000 euro.